Buongiorno a tutte e a tutti, voglio farvi gli auguri per questo 8 marzo che è un giorno importante perché rimette al centro il tema delle questioni di genere, in particolare delle questioni legate al femminile. Un giorno che dovrebbe essere così 365 giorni all'anno e ci tengo in questa giornata particolare a ricordare tutte quelle donne che non hanno la fortuna che ho avuto io, ad esempio, di avere un ruolo di questo tipo, una famiglia che mi supporta, un marito a fianco e che ancora oggi ogni giorno faticano per poter far emergere le proprie competenze, la propria capacità, per poter avere un'indipendenza economica ma anche un'indipendenza nel proprio stile di vita. Quindi il pensiero oggi va a tutte quelle donne che fanno sacrifici incredibili per cercare di costruire un proprio percorso e va a tutti coloro che hanno responsabilità, come posso avere io, in questa comunità e che devono impegnarsi ogni giorno per far sì che quelle fatiche non siano fatiche legate al genere femminile ma siano un percorso naturale per tutte le donne.